C'è una gioia che arriva in condizioni umanamente molto dure ed è il Natale. Dio mantiene le sue promesse così come le mantiene il nostro Archivescovo, Padre Franco Moscone, che è ritornato in questi studi a trovarci. Buona Domenica e Buon Natale, insomma, che è ormai vicino. Esatto. E allora, grazie. Per noi rappresenta la sua figura la Chiesa in uscita, veramente, come vuole Papa Francesco. Speriamo di dimostrarlo e soprattutto di viverlo e vivere l'uscita in questo momento in cui siamo chiamati a stare raccolti, ad evitare assembramenti e rimanere in casa sembra una contraddizione. Ma io credo che è proprio l'obbedienza a questa richiesta che ci dice che siamo in uscita, nel senso che siamo tutti insieme solidali per una medesima finalità, che è quella di superare in primis l'emergenza sanitaria e poi ritornare migliori di prima per prendere in mano le altre emergenze che c'erano già e che al termine dell'emergenza sanitaria di sicuro non saranno scomparse, ma ritorneranno e saranno evidenti con più forza. Quindi io credo che questo rimanere in qualche modo chiusi o racchiusi, lontani dai movimenti a cui eravamo abituati, possa essere comunque un'altra delle immagini di una Chiesa in uscita o di una società anche in uscita, di una società civile coesa in uscita insieme, solidale. A proposito di immagini, dopo la prima ondata la barca, quella famosa, è approdata su un'apparente isola felice. Lì ci siamo un po' lasciati andare tutti, era d'estate. Quasi all'improvviso, forse non volevamo nemmeno inconsciamente riconoscerlo, che il pericolo non era passato, col senno di poi però prevedibile. Io direi questo sull'immagine della barca e della tempesta. C'eravamo forse dimenticati che la storia delle epidemie, e quindi della medicina che studia le epidemie del passato e dei secoli passati, dimostrava che le epidemie sono fatte ad ondate, insomma ci sono tempi di alti e di bassi e quindi ne avevamo solo percorso la prima ondata. Di sicuro sarebbe arrivata la seconda e speriamo che sia l'ultima, ma non è detto. Per cui l'immagine della barca resta vera. Io aggiungerei un'osservazione relativa proprio al Vangelo. Nel Vangelo si racconta due volte la tempesta sedata e in momenti diversi della vita di Gesù. Quindi vuol dire che anche il Vangelo stesso e gli apostoli hanno vissuto ondate, potremmo dire, di pandemie o di tempeste e le hanno superate tutte con l'unica condizione, che era la presenza del Signore sulla barca con loro, che li radunava e li rendeva coesi. E in questo modo, insomma, si raggiungeva poi l'altra riva e la salvezza, oltre che la salute, insomma, fisica. Su quella barca abbiamo vissuto Pasqua, in questa seconda ondata vivremo il Natale, sempre forse sulla stessa barca ma forse in cabine diverse, perché ci hai chiesto anche un po' di isolarci dal resto. Beh, se pensiamo alla barca come i grandi transatlantici o le navi da crociera, ecco, forse dentro le navi da crociera e i transatlantici ognuno deve stare nella sua cabina. Ma l'immagine deve essere piuttosto quella del remare insieme nell'unica direzione o nell'essere coesi verso l'unica finalità e quindi avere comportamenti comuni. Ecco, se assumiamo questo atteggiamento del comportamento comune, a mio giudizio non solo stiamo combattendo e mettendo le condizioni per superare l'emergenza sanitaria e vincere l'espandersi del virus, ma apprendiamo anche delle nuove modalità sociali, ecco, di essere insieme come società civile, come chiesa, di essere insieme su questo pianeta. Insomma, impariamo la vera globalizzazione, che non era solo quella del mercato, della vendita o dell'arricchire qualcheduno, è come alla vera globalizzazione, è quella di avere atteggiamenti comuni e sentirci tutti responsabili del bene comune. Di questo bene comune che si chiama pianeta Terra, che si chiama l'ecosistema dentro il quale ci troviamo, che è per noi credenti creatura di Dio, manifestazione di Dio e quindi l'obbedienza ad essere dentro questo ecosistema in forma solidale è l'obbedienza al creatore. E in effetti tutto questo ci ha fatto anche comprendere veramente e bene il fatto che non ci si salva da soli. Non ci si salva da soli e non si crede neppure da soli. A me, parlando in questo caso da credenti e a credenti, e non solo, insomma, a persone che vivono su questo pianeta, ricordarci che anche la fede è un atto comune. È vero che quando recitiamo il credo iniziamo con io credo, ma lo facciamo insieme. E nessuno crede da solo. La fede l'abbiamo ricevuta da altri e ad altri la passiamo. E nella comunità, nell'eclesia, nell'essere insieme coesi, che esprimiamo veramente la nostra fede nel Signore, creatore, redentore, salvatore del mondo, e che ci attende, insomma, in un futuro di bellezza, quello che chiamiamo paradiso, insomma, che dobbiamo incominciare in qualche modo già a tessere da questa terra, perché la Bibbia incomincia col paradiso terrestre e termina, ecco, con il paradiso celeste. E allora il nostro impegno è rendere questa terra il più possibile paradiso per poter arrivare al cielo. Padre Franco, forse non è la strategia giusta, quella dei primi cristiani che si imbucavano nelle feste per cambiarle da di dentro, però possiamo prendere esempio per questo Natale. La strategia evangelica non è quella del fuggire, ma dell'entrare dentro e dell'essere in qualche modo fermento della pasta o sale nei cibi, insomma. E lo puoi essere solo se entri dentro e se ti lasci coinvolgere e amalgamare dal tutto, mantenendo ovviamente la tua identità, perché devi essere fermento, lievito autentico e sale con sapore, non che lo ha perso, ecco. Perché se l'hai perso è inutile alla fine mettersi dentro e sprecare ciò che è già sprecato. Allora, questo sarà un anno particolare anche per un altro motivo, perché come al solito Papa Francesco ha avuto un'altra intuizione, una delle sue, diciamo, geniali. Papa Francesco gioca sovente a scacchi e come ho letto in un... adesso non mi ricordo però chi l'aveva scritto, un giornalista, dice Papa Francesco piace la mossa del cavallo, gli scacchi, perché è la mossa che mette in crisi tutto, ecco, anche i più forti e arriva improvvisa. E ovviamente ci ha abituati, lungo il suo pontificato, a tante mosse del genere inattese ed improvvise e in questi giorni ce n'ha fatta più di una, insomma. Dall'essere, ad aver detto no, quest'anno non vado a Piazza di Spagna per l'omaggio alla Madonna, per rispettare, per non essere occasioni di troppa gente che viene perché va il Papa ad essere andato di buon mattino alle sette da solo, per dire, quella è una mossa, secondo me, una mossa del cavallo giocando a scacchi. Vero, è l'ultima, quella recentissima, dell'anno dedicato a San Giuseppe. Ok, sì. Una figura a tutti cara, una figura che agisce in secondo piano, spesso, e oggi di personaggi, protagonisti, in secondo piano ce ne sono tanti. E che, io direi che è la figura che dà valore a chi agisce in secondo piano, perché la forza di un esercito non sta nei generali, sta nelle truppe. Chi è in secondo piano, quindi è lì dove c'è veramente il segreto del popolo. Ecco, poi, chiaro, ci vogliono le guide che si spera siano più ispirate, intelligenti, responsabili e sane possibili, ma le guide da solo servono a niente, non sono per loro, insomma, sono per il popolo. Ed è lì, ecco, dove c'è la forza e l'identità. Ecco, San Giuseppe, credo sia veramente l'immagine autentica del vero personaggio che interpreta il soggetto popolo, fatte di persone responsabili che assumono il loro essere e muovono, ecco, la storia, anche se non appaiono in prima persona. Le controfigure nei grandi film di animazione o nei grandi film di fantascienza sono quelle che alla fine fanno gli effetti più belli, anche se il volto e il personaggio e l'attore è un altro, ma senza quelli, insomma, l'effetto non ci sarebbe, non ci sarebbe il gusto e ciò che rende il cinema e il film veramente gradevole. e non per niente, insomma... Quindi, per me, San Giuseppe è un po' questa controfigura, ma che rende la vita gradevole, che quindi rende vera e autentica il nostro essere società unita, il nostro essere chiesa, coesa, fatta d'amore e che porta avanti una missione. Anche per questo è patrono della chiesa cattolica? Da 150 anni, quindi la mossa del cavallo è stata quella di avercelo ricordato improvvisamente che c'erano questi 150 anni da quando Pio IX, Beato Pio IX, indisse, insomma, San Giuseppe come patrono della chiesa universale. Quindi ricordarcelo, ma non solo come patrono della chiesa, io direi come vera persona di chiesa che interpreta quello che è l'identità di un credente, di uno della chiesa cattolica. L'ultima domanda, qualcuno potrebbe dire che senso ha iniziare una storia che sappiamo come va già a finire? Io non credo che San Giuseppe abbia iniziato una storia che sapeva come andava a finire, neppure la Madonna e oserei dire neppure Gesù. Sapevano una cosa sola, che stavano mettendosi in cammino o sotto l'obbedienza, l'obbedienza del Padre, l'obbedienza di Dio. Per noi? Ecco, per cui la storia, non so come andrà a finire, so però, ecco, che sono accompagnato da Dio, quindi è storia di salvezza. Qualsiasi cosa mi possa accadere o mi venga chiesta, ecco, non mi viene chiesta da chissà chi o da quale identità misteriosa o caotica, mi viene chiesta da Dio che è Padre, quindi per il bene mio e per il bene di tutta l'umanità della storia della creazione. Quindi non so come va a finire, so che andrà a finire bene, perché? Perché chi mi guida è il bene per eccellenza che è Dio e che è il Padre. Poi per dove passi, ecco, sarà volta per volta che mi rendo conto e volta per volta devo ripetere il mio sì, anche se è pesante, insomma, penso a Gesù nell'orto degli ulivi, insomma, questo sì, quando si è accorto dove stava andando, ma veramente che ormai era vicina, sì viene ripreso, ma non era ancora la fine la passione, perché c'è poi la risurrezione, c'è l'ascensione, c'è il paradiso che è per tutti e c'è il mandarci in missione. Ecco perché è una continua creazio. Qualcuno diceva non è nemmeno da parte di Dio tutto bello e fatto. La creazione non è finita, insomma, in qualche modo Dio ha creato l'uomo perché collaborasse con lui a questa creazione, ce l'ha data in qualche modo incompleta per renderci protagonisti con lui, coprotagonisti con Dio dentro il suo grande disegno di amore e di salvezza, insomma, questo è il regista di sicuro, però noi siamo protagonisti con lui. Termina qui la nostra chiacchierata, un augurio in due parole per i nostri amici, quelli fedelissimi che seguono questo spazio. Ricomincio da te, dovremmo ricominciare da lui. È nato questo titolo prima della seconda ondata, quindi avevamo molta più speranza. continuiamo a ricominciare da te e continuiamo ogni giorno a ricominciare indipendentemente dal numero di onde, anche quando il mare sarà calmissimo, un po' di onda c'è sempre e sono quelle onde che però ci danno anche un po' di piacere insomma e di gusto e quindi impariamo a cominciare e a ricominciare ogni giorno da te e questo te è il Signore ed è anche il Signore che incontriamo attraverso i fratelli e le sorelle che ci fanno compagnia. Allora grazie di cuore Padre Franco e buon Natale. Grazie e buon Natale a tutti e a tutti quelli che ci seguono attraverso l'emittente di Padre Pio TV. Alla prossima.